Una regina come te in questa casa? Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono? Le undici. Allora, adesso signori è il momento di Antonio Mezzancella, vincitore di tale quale e conduttore con Pippolo Russo e DJ Osso nel programma radiofonico Tutti Nudi, in onda di sabato e domenica dal 13.45 alle 16 su Radio 2. Quindi signori, un grande applauso ad Antonio Mezzancella. Eccolo qua. Eccoci, buonasera. Sembra chissà chi cavolo deve uscire. No, sono io, sono io. Buonasera a tutti. Visto che siete così belli, comodi e seduti, c'è un bel video qua dietro. Io vorrei fare solo con voi una cosa. Un po' di zapping. Vai pure con il video, vai. E sapevo che alla fine era difficile, ci ho provato l'altra volta ad allungare. Ma ho capito che bisognava giocarci all'ultimo giro. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si ama davvero? Vuoi? Bravi. Tu quanto amore dai? Con le mani! Il cambio neanche vuole. Sì. Nell'attimo cui sei. Purezza e fedeltà. Davanti agli occhi. Ma tu ti sei. Ci credi che non lo so dire. Un angelo disteso al sole che è caduto qua. E tu da verità. E fa l'amore anche l'anima. Ma porca miseria, porca miseria. Adesso non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Né scendere né salire. Rimango qua. Dai, metti il piede là dove c'è quella sporgenza. Quella sporgenza lì a forma di zoccolo di gnu. Non conosco lo gnu, devo conoscerlo, zoccolo di gnu. Quell'altro, mettilo là nella rientranza, in basso. Quale rientranza? Quella rientranza lì a forma di divertebra di moffetta. Avanti, dimmi com'è fatta la moffetta. Ho detto, vete, beh dentro non si vede. Sostengono gli eroi Sul gioco ci fa dure da giocare Perdi il loro bene Se scambiano le offese con i beni Succede anche a noi Ti fanno guarrampire E poi la pace Seconda stella a destra Questo è il cammino E poi dritto Fino al mattino E poi la strada La trovi da te Porta All'isola 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 Bravo Ah però non ci posso stare così Cioè non ci posso restare così Se no poi sul raccordo sto Grazie mille questa era Un po' di Un po' di zappi Nella Nella televisione italiana Questa era una cosa che ho fatto a Tosique Valles Qualche anno fa Poi lì sono arrivato secondo Per pochissimo non ho vinto Si vincevano 100.000 euro Il primo ha vinto 100.000 euro Il secondo Niente Zero Non manco 50 euro Vabbè poi dopo però mi sono rifatto Ho vinto l'edizione 2018 Di tale quale show Il torneo dei campioni 2019 Di tale quale show Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.